Quicunque alle quinte tipi operatus fuert, statim mercedem ei restitue et merces mercenerii apurti omni non omaneat. Quoda valio oldis fieri tipi, videni alteri tuali quando faccias. Quicunque alle quinte tipi operatus fuert, statim mercedem ei restitue et merces mercenerii apurti omni non omaneat. Quoda valio oldis fieri tipi, videni alteri tuali quando faccias. www.fema.org Grazie a tutti.